Buongiorno, oggi vi presento un Elan 380, tre cabine, un bagno, la barca perfetta per una famiglia oppure per degli amici o chi viene con la fidanzata o l'innamorato. Le cabine sono molto confortevoli e spaziose, sono tre, come dicevo c'è un bagno e la cucina la quale può essere utilizzata dai gentili ospiti. Come vi dicevo siamo nel centro città, il che vuol dire che in 300 metri si riesce a raggiungere la zona dell'acquario e la macchina non serve assolutamente più, si fa un day ticket nel quale si possono vendere tutti i mezzi e visitare la città liberamente.